Veniamo adesso a come è possibile implementare le strategie di ricerca nello spazio degli stati che abbiamo visto nella teoria e implementarle in Prolog. Innanzitutto dobbiamo rappresentare in Prolog lo spazio degli stati, ma si tratta di un'operazione molto semplice perché lo spazio degli stati è un grafo e un grafo lo potremmo rappresentare se abbiamo sufficiente memoria a disposizione mediante un database di fatti del tipo il nodo Y è successore del nodo X. Quindi ognuno di questi fatti rappresenterebbe semplicemente un arco e se gli archi fossero etichettati rappresentando l'etichetta il costo della mossa per passare dallo stato X allo stato Y potremmo concepire questo database semplicemente costituito da fatti con tre argomenti, X, Y e il costo per passare dallo stato X allo stato Y. Se poi il database fosse di dimensioni talmente grandi che non avremmo sufficiente memoria a disposizione oppure addirittura fosse costituito un numero infinito di nodi ma esistesse comunque una funzione successore perché altrimenti non potremmo definire uno spazio degli stati beh allora siccome sappiamo dalla teoria che una qualunque funzione calcolabile può essere implementata da un opportuno programma definito ecco qua noi potremmo pensare di rappresentare comunque la funzione successore mediante un opportuno programma definito. Quindi in un linguaggio dichiarativo come il prologue siamo anche in grado di rappresentare spazi degli stati costituiti da infiniti nodi. Per quanto riguarda i nodi obiettivi la cosa è molto semplice perché potremmo definire un predicato a un solo argomento che avrebbe quel nodo come argomento e starebbe a significare che quel nodo è un nodo obiettivo. Per esempio supponiamo considerare il database che rappresentava lo spazio degli stati che abbiamo visto nella teoria cioè quello della Romania, lo spazio degli stati stradale della Romania. Cioè potremmo definire questo spazio degli stati semplicemente elencando fatti del tipo Zerind è successore di Arad a significare quest'arco qui vogliamo adesso di trascurare il costo della transizione e quindi ci limitiamo a ipotizzare che le città abbiano fra loro tutte la medesima distanza ovviamente partiamo da questo caso che è il caso più semplice e allora io che cosa ho fatto qui? Ho preso tutti e 23 gli archi etichettati e me li sono riportati in questo database che adesso utilizzeremo per fare gli esperimenti e ciascuno di questi archi li ho presi come archi diretti per evitare di avere cicli all'interno di questo database ovviamente tutte le strade sono a doppio senso quindi si può andare da Arad a Sibiu ma anche da Sibiu a Darad però questo adesso non mi era utile per cominciare dalla strategia che vedremo depth first e quindi me li sono rappresentati solamente da un nodo come archi da un nodo da una città alla successiva e ho evitato di rappresentare anche l'arco inverso per poter considerare tutti questi archi come archi bidirezionale sarebbe stato sufficiente che io avessi riportato anche gli archi invertendo l'ordine delle città ho definito tutti questi 23 archi in maniera tale da evitare come dicevo di poter avere dei cicli all'interno di questo grafo e quindi sostanzialmente sono andato ho considerato l'arco da est a ovest e da nord a sud bene poi ho definito uno di questi nodi eccolo qui Bucharest come goal come destinazione e poi mi sono costruito un predicato un lanciatore che mi lancerà una per una vedremo le implementazioni delle strategie di ricerca che abbiamo appena visto e partiremo dalla Depth First Search allora la Depth First Search come si fa a implementare in Prolog la strategia di ricerca Depth First se noi abbiamo un grafo uno spazio degli stati generico e vogliamo sapere se c'è un percorso che a partire da un certo nodo mi arriva un certo goal all'interno di questo spazio degli stati potrei concepire un predicato fatto di due argomenti il primo essendo appunto il nodo di partenza ed essendo quindi istanziato al momento in cui lo lanceremo il secondo non essere istanziato vorremmo che ci restituisse se appunto al termine quando dovesse trovare la clausola vuota il prolog vorremmo che ci restituisse il percorso da n a un nodo destinazione possiamo implementare questo predicato mediante una definizione costituita da due clausole una clausola tappo e una clausola ricorsiva la clausola tappo se io sono nel nodo n scusate se il nodo n sono già nella destinazione è un goal è già la destinazione e partivo dal nodo n beh allora il percorso per andare da un nodo che è un nodo obiettivo a se stesso è costituito da se stesso cioè il percorso sarà una lista non l'ho detto ma in sol la soluzione vorrò una lista di nodi ebbene l'unico nodo che fa parte del percorso per andare da un goal a se stesso è il nodo stesso questo sarà il tappo della ricorsione se no più in generale se io devo andare da un nodo n a un nodo goal allora dovrò innanzitutto vedere se è possibile da questo nodo n andare in un altro nodo n1 cercare il percorso che da n1 vada verso la soluzione e poi dopo mettere il nodo n che era il nodo da cui ero partito in testa a questo percorso leggiamolo anche al contrario se il percorso è il percorso che va da n1 alla soluzione e io posso andare da un nodo n a un nodo n1 allora il percorso che va da n e non da n1 al goal sarà lo stesso percorso che andava da n1 al goal più n messo in testa ecco questa è l'implementazione della ricerca del first in prolog certo questa implementazione è semplicissima e vorrei far notare qui una cosa che non ho fatto notare prima ma ci torno cioè in realtà l'ho detto ma vorrei rimarcare il fatto che stiamo vedendo adesso un algoritmo di ricerca nello spazio degli stati la depth first search che avrà un problemino adesso lo indichiamo ma già fa vedere qual è lo schema generale di problem solving che ci mette a disposizione il prologue qualunque linguaggio dichiarativo e cioè noi potremmo utilizzare esattamente questo predicato così come lo vediamo in qualunque problema di qualunque ricerca o spazio degli stati semplicemente andando a modificare la funzione successore cioè queste cinque righe che stiamo vedendo le possiamo utilizzare per fare una depth first search in qualunque spazio degli stati se stiamo parlando di atlanti stradali come stiamo facendo per fare noi o se stiamo parlando di di giochi o se stiamo parlando di strategie complesse o se stiamo parlando di pianificazione di robot bene tutto ciò che dobbiamo fare semplicemente è prendere queste cinque righe e implementare la funzione S diversamente da come stiamo per fare adesso noi la funzione S come abbiamo visto l'abbiamo implementata come insieme di fatti che rappresentano un'attrante stradale in un contesto di pianificazione robotica cambieremo la funzione S ma sostanzialmente la ricerca di uno spazio degli stati sarà costituita esattamente da queste righe che stiamo vedendo qual è il problema di questa implementazione il problema di questa implementazione è che funziona bene se non abbiamo cicli all'interno dello spazio degli stati se abbiamo dei cicli ebbene tenderà questa soluzione a produrre percorsi ciclici ridondanti semplicemente quindi se dovesse trovare un ciclo le soluzioni che passavano per un ramo che non coinvolgeva quel ciclo non saranno poi più trovate perché si andrebbe in loop su quel ciclo allora quindi prima di andare a fare l'esperimento vediamo quale potrebbe essere la soluzione quindi questo innanzitutto potrebbe essere il problema anche se se abbiamo per esempio potrebbe anche essere in questo caso sembrerebbe essere un albero binare lo spazio degli stati è un caso molto particolare però qui è stato rappresentato appunto un eventuale ciclo addirittura dovuto al fatto che c'è un arco bidirezionale quindi un ciclo stretto strettissimo in pratica cosa succederebbe succederebbe che questa ricerca andrebbe in depth first e andrebbe in loop su questo su questo arco in generale i loop potrebbero essere coinvolgere più archi ovviamente se poi abbiamo un grafo che non è un albero allora sicuramente quell'algoritmo che abbiamo appena visto andrebbe andrebbe in loop e quindi per evitare questo ecco questa sarebbe la depth first con il controllo dei cicli questo è l'analogo a livello dichiarativo è un analogo a livello dichiarativo della strategia che abbiamo visto dell'algoritmo che abbiamo visto nella parte teorica la depth first che fa il controllo anche dei cicli per fare questo possiamo applicare il concetto dell'accumulatore quindi che cosa facciamo ci portiamo dentro ci portiamo dietro chiedo scusa la lista dei nodi visitati e questa lista dei nodi visitati sarà implementata come abbiamo visto nella teoria del prologue come un accumulatore che accumulerebbe dei nodi lungo quel percorso dopodiché quando andiamo a generare un nuovo successore per metterlo all'interno del percorso beh prima di metterlo all'interno del percorso e quindi di andare avanti su quella strada andremo a vedere se quel nodo successore non fa già parte del percorso perché se già fa parte del percorso facciamo fallire la generazione di quel nodo e tramite il backtracking andremo a cercare un altro nodo cioè il predicato avrebbe questa forma abbiamo un lanciatore che ha due argomenti come abbiamo visto prima lancerebbe un predicato depth first che partirebbe da una da una lista vuota e come inizializzatore e che cosa farebbe praticamente andrebbe ad accumulare qui al primo argomento i nodi che troverà lungo il percorso vediamo innanzitutto questo depth first sarà implementato con due clausole al solito una clausola tappo e una clausola ricorsiva la clausola tappo se abbiamo un certo percorso fatto fino adesso e abbiamo un nodo corrente che è il nodo goal allora noi aggiungeremo questo nodo al percorso che abbiamo trovato e usciremo dalla ricorsione e questo supponendo appunto che abbiamo già accumulato un percorso strada facendo e siamo arrivati al nodo se invece abbiamo accumulato il suo percorso ma non siamo arrivati al nodo parte la clausola ricorsiva siamo in un certo nodo andiamo a cercare un successore del nodo stesso chiamiamolo nodo 1 verifichiamo che il nodo 1 non sia membro cioè non appartenga all'accumulatore che abbiamo messo qui al primo argomento se non appartiene all'accumulatore a questo punto andiamo oltre e quindi mettiamo dentro il nodo in testa al percorso e proseguiamo a partire dal nodo 1 da cui siamo entrati adesso abbiamo il nodo che abbiamo espanso per dirlo con la termologia che conosciamo lo mettiamo nella lista dei nodi visitati e andiamo a cercare il resto del percorso a partire dal nodo N1 questo controllo not member che il nodo 1 non sia membro del percorso accumulatore generato fino a quel punto è quello che ci consentirà di prevenire i cicli adesso andiamo a vedere come abbiamo implementato questa è la seconda la che fa il controllo di cicli che abbiamo appena visto l'unica differenza è che qui sto usando lo swiprolog il not come sapete nello swiprolog si implementa in questa maniera qui non scrivendo not e poi qui nel lanciatore mi sono ho lo consigliato 8 e 2 partiamo prima dal caso della più semplice della lanciamo quindi la strategia più semplice quella che è suscettibile di trovare di incappare in cicli infiniti torniamo a vedere il database della romania e compiliamo il nostro programma credo di averlo già fatto aspetta per sicurezza lo rifacciamo qui ho utilizzato anche una variabile profondità massima che mi servirà per implementare la depth limited qui in questo momento non viene utilizzato comunque sia io dovrò lanciare cerca percorso dovrò lanciare dicevo cerca percorso a partire dal dal nodo arad e mi dovrebbe restituire un percorso p e come profondità gli ho dato una profondità che sarà sicuramente sufficiente per cercarli di trovarli tutti e poi mi vado a scrivere il predicato p questo predicato scrive io un predicato che mi sono costruito tutto il percorso scritto proprio sul monitor non restituito semplicemente ed esclusivamente ma anche come istanziazione della variabile p ma lo vorrei proprio aver scritto perché l'istanziazione della variabile p potrebbe non rientrare dentro la larghezza della della consola quindi mi sono fatto sostanzialmente un predicato che data una lista mi scrive la testa della lista poi mi scrive uno spazio e poi ricorsivamente mi va a scrivere il resto della lista scrivere sul 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 quindi a questo posso lanciare il programma e il primo percorso mi va a trovare è un percorso che da Arad va a Sibiu Fagar mi trova adesso mi trova adesso Sibiu quindi non passa per Fagaras Craiova va giù Pitesti risale su Bucarest vediamo se ce n'è un altro eccolo qui spero che riusciate a seguirlo anche sulla cartina qui a fianco vediamo se ce ne sono ancora certo che ce ne sono ancora questo Arad Sibiu Fagaras Bucarest Arad Sibiu Fagaras Bucarest se gli archi fossero tutti della medesima lunghezza sarebbe la soluzione ottimale vediamo se ce ne sono ancora sì Arad Sibiu Riminic Wilcea Craiova Pitesti Bucarest sembra quello di prima ma in realtà prima era arrivata a Riminic Wilcea passando per Zerido Radea invece adesso ha tagliato è andato per Sibiu da Arad vediamo se ce ne sono ancora altri Arad Sibiu Riminic Wilcea Pitesti Bucarest vediamo altri qui si va a sud Arad Timisho Ara Lugoi Meadia Dobretai vedete il percorso vediamo se ce ne sono ancora altri no non ce ne sono altri tra di tutti quanti sono 1 2 1 2 3 4 5 6 7 percorsi ok adesso vediamo cosa succede succederebbe se noi andiamo a modificare il database e ci mettiamo che da Sibiu si può andare ad Arad e togliamo il fatto che da da Arad si possa andare a Sibiu cioè in pratica facciamo l'arco opposto quindi si può andare da Sibiu ad Arad ma non da Arad a Sibiu salviamo ricompiliamo e lanciamo il medesimo gol trova il primo percorso Arad Zerid Oradea Sibiu Faglas Bucharest poi trova Arad Zerid Oradea Sibiu Rimini Colucea Craiova Pitesti Bucharest poi trova Arad Zerid Oradea Sibiu Rimini Colucea Pitesti Bucharest senza passare per Craiova poi trova Arad Zerid Oradea Sibiu e torna ad Arad Zerid Oradea Sibiu Faglas e così via e stiamo per vedere praticamente va in loop nel senso che farà sempre questo giro qui una volta poi passando di qui una volta passando di qui ma sempre anzi continuerà a girare su questo qui e andiamo quindi a produrre una infinità di soluzioni allora per evitare questo problema dobbiamo utilizzare il secondo algoritmo quindi lanciamo il nostro lanciatore però questa volta faremo partire la Depth First non l'avevo detto prima ma la Depth First quella con il controllo dei cicli restituirebbe il percorso inverso per come è stato utilizzato perché è stato implementato perché utilizza un accumulatore che come sapete accumula i nodi nell'ordine inverso in cui dovrebbero essere restituiti come percorso allora per per ridarli come percorso dal nodo di partenza al nodo obiettivo invertiremo la lista che ci viene restituita per avere il percorso originario e l'inversione la possiamo fare con il predicato alle esercitazioni questo è il predicato che eventualmente se non lo conoscete potete fermare la registrazione è quello che utilizzo per fare l'inversione di una lista bene l'abbiamo salvato lo compiliamo con predicato trova ara zerid oradea sibiu fagarest bucarest attenzione adesso non c'è più l'arco da arad a sibiu ma c'è da sibiu ad arad trova ara zerid oradea sibiu rimicumilcea ara zerid oradea sibiu rimicumilcea pitesti bucarest ara timisho ara e poi non ne trova più l'arco cioè il percorso che passava da arad a sibiu non l'ha trovato ma soprattutto come vedete non è andato in loop quindi ora che abbiamo trovato l'algoritmo che ci consente di non andare in loop possiamo rimettere le cose a posto addirittura possiamo aggiungere non solo l'arco li mettiamo tutti e due perché anche se fossero bidirezionali gli archi non l'algoritmo che abbiamo appena visto non cadrebbe nel loop e quindi metto considero tutti gli archi bidirezionali cioè faccio sostanzialmente il database dove ogni arco è considerato in entrambi gli ordini di percorrenza risalvo e compilo rilancio lo stesso programma e la connessione trova il primo percorso secondo terzo quarto quinto sesto settimo eccoli qua sono tutti i percorsi che trovavamo prima li ritroviamo adesso anche se abbiamo un database che sarebbe aperto a tutti i loop del mondo in quanto che tutti gli archi sono considerati in entrambe le direzioni bene adesso ci fermiamo qui nelle prossime unità didattiche vedremo l'implementazione delle altre strategie di ricerca nello spazio degli stati l'implementazione